Da Bernalda no all'impianto, il Consiglio Comunale Aperto boccia il progetto del piro biogassificatore, decisione unanime delle comunità della fascia ionica. E ora ci spostiamo a Bernalda, dove ieri sera le comunità della fascia ionica si sono date appuntamento per confrontarsi sul contestato progetto del piro biogassificatore. Mimmo Spina ha seguito il Consiglio Comunale Aperto. Svidiamo com'è andata. Bernalda dice no. Sette voti favorevoli, tre astenuti ed uno contrario. Bocciano il progetto del piro biogassificatore a Pantanello di Metaponto. Progetto che coinvolgeva un sito di interesse nazionale a 300 metri dagli scavi archeologici e alla distanza di uno sguardo dal santuario di Era, indicato come tomba di Pitagora o tavole palatine, con il suo tempio dorico, sacro per gli antichi greci, di interesse culturale mondiale per noi moderni. È stato un consiglio più che movimentato, affollato di cittadini e a lungo dibattuto. Ci sono stati anche momenti di tensione. Soddisfazione a parte, il futuro di quell'area che cosa sarà? Ora certo c'è il futuro, ma il futuro che noi abbiamo già programmato ed impostato su quelle che sono le nostre vere forze, sulle meraviglie archeologiche, sugli spettacoli che abbiamo programmato per la loro valorizzazione quest'anno. E quali sono? Per esempio Megale Ellas, che ha la sua seconda edizione, che mette in rete sia Bernalda sia Policoro, le rovine archeologiche sia di Bernalda sia di Policoro, per una nuova fruizione e dare una nuova vita a queste meraviglie archeologiche che devono essere accessibili e visibili a tutti i cittadini ed anche ai turisti che verranno a trovarci. Quindi io vedo con grande speranza a questo tipo di futuro, avendo finalmente sgombrato il campo da quest'ombra minacciosa che si addensava sul futuro dei nostri ragazzi. Per la cronaca, la Giunta ha dovuto incassare l'assenza di quattro consiglieri di maggioranza, tra cui il Presidente del Consiglio, che l'hanno costretta a dover contare per la garanzia del voto legale sulla presenza di quattro consiglieri di minoranza. Alla fine la delibera di Diniego è stata approvata, con buona pace, della maggior parte dei cittadini. Beh, questa sicuramente è una delibera molto interessante, che salvaguarda un territorio che altrimenti sarebbe stato devastato da una scellerata manovra. Questa Pondina è una terra che, fertile, l'agricoltura perderebbe per se fanno questo classificatore. Questa è una zona archeologica, devono sbavire dalla circolazione.